Abbiamo con noi la startup che ha ottenuto il più alto finanziamento in Italia garantito appunto dal Fondo di Garanzia del Ministero dello Sviluppo Economico e Underground Power, la sigla è UP, che ha ottenuto appunto un milione di euro da Unicredit. Underground Power è una startup che ha sviluppato un sistema che ricava energia dal traffico perché produce un rallentatore che trasferisce, traduce appunto le vibrazioni provocate dalle auto che passano sul rallentatore in energia ed è una delle prime dieci, considerata una delle più importanti tra le prime dieci startup clean tech in Italia. Ecco abbiamo qui con noi uno dei fondatori di UP, di Underground Power, Andrea Pirisi che è fondatore appunto e CEO, amministratore delegato e Alessandro Beretta che è il direttore finanziario, il Chief Financial Officer della società. Io comincerei proprio, benvenuti intanto a Economia App, io comincerei proprio da Beretta visto che parliamo di banche e soldi e abbiamo cominciato questa trasmissione dicendo le cose cambiano. Underground Power prima di avere il milione di finanziamento da Unicredit garantito dal fondo, ha ottenuto prestiti da altre banche. Come è andato il rapporto con le banche e quali sono le difficoltà che si incontrano quando si va a offrire, a raccontare una startup? Allora, grazie per la domanda perché è molto sentita ed è stato lungo e sofferto percorso perché noi ci siamo affacciati al mondo, al sistema bancario nell'ottobre del 2013, quando era da qualche mese uscita il decreto per la crescita delle startup e quindi avevamo individuato questo bellissimo strumento che è la garanzia offerta dal Fondo di Garanzia per le Startup Innovative. Allora abbiamo iniziato a fare scouting, possiamo chiamarlo così, delle banche e siamo andati porta a porta da ben 17 banche a chiedere sostanzialmente se in qualche modo... Cioè le avete fatte tutte praticamente? Tutte le abbiamo fatte, io le posso elencare ad una ad una perché... Ricordo che voi avete due sedi, una a Trento e una a Paterno-Dugliano, quindi avete fatto un po' tutto l'arco alpino. Ma abbiamo praticamente, siamo andati a bussare la porta al 90% delle banche del Nord Italia. Risposta? La risposta è stata no, la risposta è stata no sul Fondo di Garanzia, perché? Perché erano passati due mesi da quando era uscito il decreto, la circolare e quindi non era ancora, diciamo, dato che queste banche comunque sono grosse organizzazioni che devono avere il tempo per assimilare le varie procedure interne e quindi non avevano ancora assimilato lo strumento del Fondo di Garanzia per le Startup Innovative. Quindi avete avuto accesso al credito senza il fondo all'inizio? Assolutamente no all'inizio, perché anche i soci hanno dato la disponibilità di dare garanzie reali, ma comunque il mondo bancario in quel periodo dove la situazione macroeconomica non erano in grado di fornire finanziamenti a quelle società che non avevano ricavi e flussi di cassa solidi e duraturi nel tempo. Quindi una Startup? Sostanzialmente una Startup. Società senza track record non venivano finanziate in Italia in quel determinato periodo storico. Quindi 17 banche hanno detto di no, siamo andati a bussare al credito valtellinese e il credito valtellinese è stato il primo a dire ok proviamoci. Il direttore della filiale con cui ci siamo interfacciati, quella di Monza e il capo Aria sono rimasti molto colpiti dall'azienda, hanno visto un'azienda in crescita, stufi di vedere aziende in ristrutturazione economica, in sofferenza, hanno detto sì ci crediamo. E loro stessi, nonostante l'offerta dei soci era una garanzia reale che copriva di gran lunga il valore del finanziamento che andavamo a chiedere che era di 750 mila euro, nonostante questo hanno affrontato mille difficoltà, loro e noi stessi sono dovuti andare direttamente a Sondrio e praticamente a Sondrio nel comitato credito, ma nella stessa struttura centrale di Sondrio tutti conoscono Underground Power perché ha fatto un po' la storia questo finanziamento. Quindi diciamo che le banche adesso stanno un po' cambiando anche il loro modo di vedere le nuove imprese capendo che appunto si tratta di nuove imprese che non possono presentare gli stessi numeri di un'impresa consolidata. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco Andrea, però mi pare di capire che le cose adesso sono cambiate, nel corso del 2014 avete avuto molta più facilità nel rapporto con le banche, con gli istituti di credito. Decisamente siamo passati dall'inizio dell'anno, del 2014, a ricevere come risposta da uno dei comitati crediti, peraltro 17 banche ma su tre aree territoriali diverse, tra cui anche quella di Trento, un comitato crediti che ci ha risposto, vediamo 20-25 mila euro massimo, però con ipoteca sulla casa. Siamo passati da questo scenario a uno scenario in cui alcune tra le più importanti banche italiane sono venute a trovarci presso i nostri uffici, ho presentato il piano industriale, sono sempre uscite entusiasti dicendoci siamo contenti di poter lavorare con una realtà come la vostra e una di queste che è stata ogni credit, poi ci ha concesso un finanziamento, assistito al fondo di garanzia per un milione di euro. Ecco, diciamo che le banche hanno assimilato un po' il nuovo strumento, hanno assimilato il nuovo strumento e soprattutto stanno comprendendo la nuova cultura imprenditoriale delle start-up, però in qualche modo si riproduce il modello della crescita con debito delle piccole e medie imprese, cioè a differenza di un investitore istituzionale, di un investitore privato che diventa socio, la banca prevalentemente poi i soldi li vuole indietro, quindi in qualche modo si cresce indebitandosi, non è un problema questo? Allora sarebbe un problema per un'azienda normale che ha un'aspettativa di crescita a singola cifra, per le start-up invece appunto come sono conosciute, le start-up sono società che investono tanti soldi ma hanno un potenziale di crescita a doppia cifra, anche a tripla cifra e soprattutto la cosa più importante, il secondo motivo per cui per una start-up conviene crescere indebitandosi, è la questione che per le start-up la valutazione è assolutamente volatile e ci sono determinate milestone da raggiungere che devono essere ben note all'interno della start-up che sostanzialmente a scattare di queste milestone la valutazione può anche raddoppiare sostanzialmente, quindi il debito che è stato erogato nella fase precedente al raggiungimento di questa milestone successivamente avrà un impatto minimale sulla valutazione che si è venuta a creare. Quindi se oggi la start-up vale 10 e dopo un anno vale 100, quel milione di euro di credito ha un impatto diverso e l'investitore lo sconta in maniera della valutazione della società. Ecco, dove sta il valore di app Andrea? Cioè io ho detto che produce questo rallentatore che... E' un assorbitore di velocità in realtà. Un assorbitore di velocità che poi trasforma le vibrazioni in energia elettrica. Voi lo avete già sperimentato in un centro commerciale. Quali sono i vantaggi e perché Unicredit vi ha dato un milione, a parte i soldi che avevate già preso prima da altre banche? Ma in tutti i casi delle banche che ci ha finanziato, sia dal Creval a Desio a Unicredit, la ragione è sempre stata la stessa e ce l'hanno dichiarato. Cioè noi crediamo nel potenziale di crescita di questa azienda, tant'è che Unicredit, noi con Unicredit ci siamo interfacciati direttamente con l'ufficio corporate. Loro ce l'hanno motivato in questi termini. Quanta energia è in grado di creare? Stiamo parlando di un assorbitore di velocità che spesso viene frainteso con un tradizionale dosso stradale. In realtà è una piattaforma modulare. A vederlo sembra un dosso, libera. È piatto ed è installato filo strada, quindi se tu ci approcci vedi soltanto una porzione di gomma vulcanizzata alla stessa quota dell'asfalto, che è in grado di assorbire la velocità del veicolo, quindi la rallenta fisicamente ed ecco perché può essere installato solo nelle zone dove la macchina deve già rallentare, quindi prima di una curva come nel caso di Oshan, può essere prima di uno stop, prima di una rotonda, una attraverso. Se la macchina arriva rallentando. Rallentando. Perché nella fase di rallentamento... A casella autostradale. Esatto. Nella fase di rallentamento i freni trasformano la velocità della macchina in calore e gas di scarico, per cui la dissipano nell'ambiente. La benzina viene trasformata in velocità in fase di accelerazione, ma ogni volta che sfiori il freno, quel valore economico viene buttato nell'ambiente in calore. E noi interveniamo in quella fase. Assorbe. Per cui noi recuperiamo dall'ambiente parte dell'energia dissipata, come? Aiutando il veicolo a rallentare. Quindi che il veicolo freni o meno, comunque c'è questa piattaforma che deformandosi sotto il peso del veicolo ne assorbe parte dell'energia cinetica. Sotto ci sono delle dinamo che la trasformano in energia elettrica e la consegnano a un inverter fotovoltaico. Quindi dov'è l'enorme potenziale? Hai un sistema che è identico, si inserisce esattamente nel mercato del fotovoltaico, però l'unica cosa di speciale che c'è è l'impianto modulare installato a filo strada. Per cui non hai impatto ambientale, in 15 metri di impianto produci come un fotovoltaico da 800 metri quadri e l'impatto ambientale è zero perché in realtà stai riqualificando una porzione di strada già esistente. Ma quindi Oshan, che lo ha utilizzato nella sua piazzale del centro commerciale, cosa fa? Produce energia? Loro vanno in autoconsumo, che tra l'altro è una delle linee guida caldeggiate nel nuovo conto energia. Vuol dire che non immettiamo potenza in rete, questo vuol dire non contribuire alla destabilizzazione della rete elettrica dovuta dalle altre fonti di energia. Quindi si autoproducono le energie con il traffico prodotto dal centro commerciale. Esattamente. E questo riduce il loro consumo di energia dalla rete elettrica. Per cui dal punto di vista del centro commerciale l'efficienza energetica ha tutti gli effetti. E stiamo parlando di 100.000 kilowattora l'anno. Bene. Grazie. Buon lavoro. E immagino che starete già lavorando per un nuovo round di finanziamento. Assolutamente. Perché la cosa più importante deve essere... Che i soldi non bastano mai. Assolutamente sì. Perché ci deve essere pianificazione finanziaria annuale. Noi sappiamo sempre, e per questo riusciamo sempre a scontare valutazioni alte, soprattutto debito, perché noi sempre, a un anno di distanza, sappiamo esattamente il giorno, e quasi mai non ci sbagliamo, in cui i soldi finiranno. Bene. Avrete ancora, immagino, ancora qualche mese di tempo. Assolutamente sì. Buon lavoro. Grazie. Grazie.